Nelle Marche i contagi da Covid-19 stanno viaggiando a due velocità. Già perché nello specifico della provincia anconetana procedono ad una rapidità quasi quattro volte superiore a quella della provincia di Pesaro Urbino. Basti dire che sono stati 274 i casi registrati ad Ancona nelle ultime 24 ore, 69 quelli a Pesaro Urbino. Il tutto su una percentuale fra positivi e testati che si colloca ad un altrimenti accettabile 11,8%. In totale sono 581 i contagi nelle ultime 24 ore nella regione Marche su 4.942 nuove diagnosi per 7.316 tamponi effettuati. Non è un caso che da oggi fino a sabato 27 febbraio sia scattata la zona arancione per 20 comuni su 47 della provincia di Ancona, oltre al divieto di entrata e uscita dalla stessa provincia. 20 zone arancioni a macchia di leopardo in una regione altrimenti gialla, ma che per restare tale anche a marzo deve sperare che la provincia anconetana abbassi una velocità di contagio che nell'ultima settimana ha costantemente eguagliato i valori di tutto il resto della regione. Gli antidoti, limitazioni, precauzioni e naturalmente vaccini proseguono con ampia adesione le inoculazioni agli over 80, ma ancora non è possibile effettuarli sugli anziani non autosufficienti o impossibilitati ad eambulare. La regione non ha comunicato ancora modalità e tempi di somministrazione, ma intanto ora c'è un numero per prenotarsi, da poter chiamare tutti i giorni feriali dalle 9 alle 18, dichiarando la propria tessera sanitaria. Dopodiché andrà dimostrato di avere un certificato medico che attesta l'impedimento agli spostamenti.